Gol, emozioni, brividi, tutto in 90 minuti agli archivi, la classica partita di stampo Zemaniano. Ora la matricola Sestri Levante che ha fatto la voce grossa nel sentitissimo derby di Chiavari con l'entella. Colpo grosso dell'undici di Barilari, prima storica vittoria in Serie C, campionato che il Rosso-Blu sono tornati a frequentare dopo 74 anni. Turno infrasettimanale, il primo previsto dal calendario, si gioca sul neutro di Carrara con i recuperi di Cuppone completamente sfebrato. Etoniav-Zeman ha di nuovo l'imbarazzo della scelta, specie a centrocampo, settore che finora ha destato qualche perplessità. Dopo Perugia sarà la seconda trasferta stagionale, scelte si diceva tutt'altro che scontate, specie nel reparto nevralgico. Nulla dovrebbe essere modificato nelle retrovie, forse un solo cambio in attacco. Il probabile undici, Plizzari tre pali in difesa a Pierno, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo assai probabile, la prima da titolare di Simone e Franchini, che bene ha fatto subentrando dalla panchina nella sfida con l'Arezzo. Salvo sorprese, il play sarà ancora squizzato. Tugnob sta bene, ha smaltito la lieve contusione al ginocchio e dovrebbe partire di nuovo dall'inizio. Ma ci sono anche gli altri su tutti, Aloy che naturalmente contende la maglia sia a Franchini che al calciatore Estone. In attacco Cangiano dal primo minuto nel tridente completato da Merola e Cupone, anche se scalpita Tommasini. Il Sestri Levante, una bella favola, ha ritrovato la C dopo 74 anni, stravincendo il campionato di D con numeri impressionanti. 94 punti, 20 di vantaggio sulle seconde, 77 gol fatti, 29 subiti, attacco più prolifico e migliore difesa. Le caratteristiche, corsa, aggressività, buona organizzazione difensiva. Davanti invece i Liguri sono piuttosto corti. Riccardo D'Antoni, preso dal Riccione, si è rotto e l'ho crociato. Soltanto tre le novità rispetto allo scorso anno. Gala, Busatto, soprattutto Vasco Reggini. Già alle dipendenze di Zeman nel Foggia in C, stagione 2010-2011, prima dell'ottima carriera in A nelle fila della Sampdoria. Circa 140 presenze. Il tecnico Enrico Barilari, 49 anni, levantese di nascita, promosso in prima squadra lo scorso anno dalla Juniores, ha regalato un autentico sogno al Borgo Marinaresco. Finora Barilari ha utilizzato più moduli. Contro il Pescara potrebbe confermare il 3-5-1-1, possibile 11, Anacoura tra i pali, Pane, Oliana e Reggini in difesa. Sulle fasce, da una parte parlanti, classe 2004, giocatore molto interessante, dall'altra furno, in mezzo Candiano, Raggio, Garibaldi e Troiano, tra le linee Gala, alle spalle di Busatto. Lo ricordiamo, si gioca sul neutro di Carrara, Sestri, Levante, Pescara sarà diretta da Simone Gauzzolino della sezione di Torino.